E' una bella signorina che di una canzone si pareci così E' una bella signorina che sciolta il nostro Su chiudia mi sogna, su chiudia mi sogna Un cionato un po' ti piace di più E' un altro non pensare, su chiudia ciò che do Un sovrano internazionale, ambasciatrice di una canzone napoletana in Uzbekistan Ha fatto concerti in tutto il mondo Chiesi, Honduras, poi è arrivata la pandemia E ti sei fermata lì a me Fortunatamente ora abbiamo ripreso Siamo ripresenso, sì, il 2 di giugno starò a Corato Per il concerto per la pubblica italiana Il 29 di luglio sono a Goleto per il festival Quindi stiamo iniziando a Goleto Goleto Insomma, magari stiamo riprendendo tutto Ok, che ci fai ad ascoltare? A sorpresa Va A sorpresa A sorpresa A sorpresa Vai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.